Alle 13 già 200 visite senologiche gratuite senza prenotazione e 60 ginecologiche. Sono i numeri del quarto Open Day organizzato dall'Istituto Azienda Ospitaliera di Cremona per festeggiare le donne alla vigilia della loro festa. Inoltre anche consulenze psicologiche gratuite, consulenze nutrizionali e anche a prevenzione dell'ostoporosi al piano meno uno dell'ospedale di Cremona. Numerose le donne che hanno approfittato di questa iniziativa per visite di controllo, di prevenzione con la possibilità di avvicinarsi gratuitamente anche ai primari ed esperti. La soddisfazione nelle parole del direttore generale dell'ospedale, una donna, Simona Mariani. Prima di curarsi noi ci teniamo molto che i nostri cittadini, oltre ai corretti stili di vita che ricordiamo sono la sana alimentazione, il movimento, lo sport, possono avere queste opportunità per fare in modo di intercettare qualora ci siano dei problemi e affrontarli immediatamente. Tutto questo vuol dire quindi una salute migliore. Un modo per fare prevenzione è che conferma quanto l'ospedale di Cremona sia sempre più portata di donna, come dimostrano i tre bollini rosa che ha ricevuto dalla Regione. Penso che sia un momento veramente molto importante. Avere la possibilità da parte della popolazione di poter seguire tutti i vari percorsi, percorsi di salute, i percorsi che possano promuovere la salute di una persona dando agli argomenti, le vie e i punti che devono seguire. Entusiaste poi le donne in corsia. Che cosa ne pensa di questa iniziativa dell'ospedale? È una grandissima cosa e spero che tutte le donne aderiscano a questa giornata. Sono gratuite e senza prenotazione? Esatto, soprattutto per le prenotazioni e soprattutto per i gratuiti, perché tante persone non hanno lavoro e quindi questa è un'ottima cosa. Nel Cremonese speriamo anche che duri nel tempo. Devo dire che nel primo anno che provo è una cosa molto utile, utile per le donne che non hanno tempo e hanno piccoli controlli da fare. Una quarta edizione di successo che tinge l'ospedale di Rosa, ma anche di Giallo Mimosa, per la festa della donna.